Due anni fa Walter Onichini, macellaio residente a Legnaro in provincia di Padova, sparò i ladri che erano entrati nella sua proprietà a rubare. Il commerciante nel cuore della notte si difese e uno dei proiettili andò a colpire uno dei balordi. Il ferito venne trovato agonizzante lungo la strada poco distante dalla casa. Secondo le testimonianze del padrone di casa, il ladro sarebbe salito in auto con lui per correre all'ospedale, ma poi scappò. Secondo invece la ricostruzione degli inquirenti, il ferito venne fatto salire in auto e poi abbandonato lungo la strada. Secondo il PM che segue la vicenda, il commerciante voleva sbarazzarsi dell'uomo e per questo rimane accusato di tentato omicidio. Al momento l'ipotesi della legittima difesa non trova riscontri. La banda era entrata di notte nella villetta della famiglia. Degli intrusi solo il ferito è stato identificato, uno è irreperibile e due non sono mai stati trovati.